Parliamo dell'impatto del populismo in Europa e in Asia Centrale con il capo economista della Banca Mondiale per la Regione, Hans Timmer. Grazie per aver accettato il nostro invito. Con l'ascesa del populismo in tutto il mondo viviamo tempi incerti. Nel vostro rapporto è scritto che questo è un rischio economico a lungo termine. Perché? L'ansia che si riflette nel voto per i partiti populisti è la stessa che si manifesta di fronte ai cambiamenti del mercato del lavoro e alla mancanza di lavoro. Il rischio è che in futuro i problemi che queste persone incontrano non saranno risolti. Ci saranno cambiamenti drammatici a causa della globalizzazione e delle nuove tecnologie che sono difficili da imparare. Le società hanno bisogno probabilmente di un nuovo contratto sociale, un nuovo modo di trattare con il nuovo mercato del lavoro. Se la precarietà alimenta il populismo, come stabilisce il vostro rapporto, quali politiche economiche dovranno essere messe in campo dai governi per affrontare questo problema? L'incertezza del lavoro significa che tutti i nuovi posti di lavoro che vengono creati sono part-time o a tempo determinato. I posti di lavoro permanenti stanno diventando sempre più rari. Ciò che i governi possono fare è aiutare le persone ad affrontare questa nuova situazione. Ciò significa che i sistemi di protezione sociale, in passato legati alle grandi aziende, dove la gente lavorava per gran parte della vita, devono essere slegati dalle aziende ed estendersi. Europa e Asia Centrale rischiano di essere influenzate dalle probabili politiche protezionistiche spinte dal fenomeno populista? Credo che il protezionismo ridurrà la crescita e ridurrà la capacità ad affrontare nuove circostanze. Quindi non può essere e non sarà la risposta. Credo che la Brexit sia un buon esempio. Quello che sta accadendo in questo momento non risolve il problema della gente che ha perso il posto di lavoro nelle fabbriche, che ha perso il lavoro fisso. Non credo che ci sia una soluzione nel breve periodo. Una strategia dovrebbe essere incentrata sulle persone che devono adattarsi ai nuovi lavori e questo non si ottiene chiudendo i confini. Dobbiamo essere aggiustati a nuove cose di lavoro e non lo facciamo solo a cercare le bordi.